Di primo mattino, non una di meno, un movimento a difesa e contro la violenza di genere qui di Alessandria e nazionale ha deciso di occupare l'asilo Monserrato. Perché questa decisione? Che cosa volete fare qua? Il progetto di avere una casa delle donne ad Alessandria è un progetto che abbiamo introdotto e con cui abbiamo discusso con la città a lungo. Sono più di tre mesi, abbiamo raccolto più di 3.000 firme e abbiamo stilato la bozza di un progetto di quello che vorremmo fare all'interno di queste mura. Che cosa dovrebbe essere una casa delle donne? Intanto un luogo aperto, un luogo tenuto aperto dalle donne e per le donne, un luogo di ascolto, un luogo di confronto, di produzione culturale, un luogo di produzione di cultura femminista. E poi c'è tutta anche una parte di attività e servizi che secondo noi sono le attività e i servizi necessari a far sì che a partire dal nostro territorio si crei una cultura in cui la violenza di genere non sia più all'ordine del giorno. Noi immaginiamo ad esempio uno sportello di assistenza riguardo tutto il mondo delle molestie sul lavoro, i diritti che vengono negati alle donne sul luogo di lavoro. Ci immaginiamo di introdurre un progetto e di essere il motore che catalizzi il ritorno dell'educazione sessuale e l'affettività all'interno delle scuole del nostro territorio, che crediamo che sia un pezzo fondamentale durante il percorso formativo delle donne e degli uomini del futuro. Vogliamo fare uno sportello di ascolto perché molte volte il risultato di una molestia o di una violenza è l'isolamento della donna stessa, noi invece crediamo che le donne insieme possano cambiare e possano difendersi. Vogliamo creare una biblioteca legata a tutto quello che è il mondo delle donne e del sapere femminista, insomma tutta una serie di attività che per noi devono essere presenti sul territorio e che nessun altro ente o istituzione produce e che siano utili appunto a creare una cultura, una società per lo meno dal punto di vista di quella che è la società cittadina in cui la violenza di genere non prosperi e anzi si cominci a invertire la rotta. Crediamo che soprattutto in questo momento, anche rispetto a quello che sta succedendo, rispetto al governo nazionale, al ministro della famiglia e della disabilità, sia una cosa assolutamente necessaria. Se lei dovesse fare un appello diretto a una donna di Alessandria e chiederle di venire qui a trovarvi, che cosa le direbbe? Vieni, questo è un luogo aperto, è un luogo aperto per tutte le donne che credono che possa esistere un modo diverso di vivere se stesse, di vivere la propria città. Noi siamo un movimento estremamente aperto, c'è bisogno di tutte per continuare a costruire un'alternativa a quella che è la società che ci circonda, che è fatta di violenza e discriminazione e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte per costruire una casa delle donne in questa città.